Era uso nei tempi antichi che il cintraco, cintraco era una figura di banditore, insomma eccomi qua, da 27 anni con questo abito verde, distribuiva poi a tutti i rametti al quale erano attribuite delle virtù taumaturgiche, ma voi non avvicinatevi troppo al fuoco perché naturalmente c'è il rischio di bruciarsi. Bene, abbiamo anche qua vicino a me il sindaco dei giovani, quindi vi chiedo per tutti loro e per tutti voi un applauso. Allora un'altra curiosità, visto che prima abbiamo parlato di tradizione, abbiamo detto che San Nicola, appunto Santa Claus, divenuto poi Babbo Natale, è stato portato a Bari. Grazie. Grazie.